SIGLIO E te adoriamo Noi ti odiamo Signor E te adoriamo Noi ti odiamo Signor E te adoriamo Sacramento che termina i vergi Noi ti odiamo Signor E te adoriamo Noi ti odiamo Signor E te adoriamo Sacramento che dà forza e vigore Noi ti odiamo Signor E te adoriamo Noi ti odiamo Signor E te adoriamo E te adoriamo Precrustazione del conflitto celeste Noi ti odiamo Signor E te adoriamo Noi ti odiamo Signor E te adoriamo E te adoriamo Meglio della nostra risurrezione Noi ti odiamo Signor E te adoriamo Noi ti adoriamo Noi ti odiamo Signor E te adoriamo Agnello di Dio Agnello di Dio Che togli i peccati del mondo Agnello di Dio Agnello di Dio Agnello di Dio Aggelli del nostro cuore Dio Lui del stedio del cielo E dono una sedia ardente Di vita eterna A noi che siamo Qui riuniti Ad adorarmi con profonda venerazione il mistero del corpo e del sangue di Cristo Signore che vive in regna dei secoli dei secoli Amén Siamo davanti e benvenziati a tutti i santissimi e a tutti i santissimi gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio o è sempre i secoli dei secoli Amén Siamo davanti e benvenziati a tutti i santissimi e vivissimi gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio o è sempre i secoli dei secoli Amén Siamo davanti e adorati ogni momento il santissimo e vivissimo sacramento gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio o è sempre i secoli dei secoli Amén o Dio che nel mistero orveristico ci ha dato il pane vero disceso dal cielo fa che viviamo sempre in terra con la forza di questo cibo spirituale e nell'ultimo giorno risorgiamo gloriosi alla vita eterna per Cristo il nostro Signore Amén grazie a tutti grazie a tutti Dio sia benedetto benedetto il suo santo nome e benedetto il suo santo nome benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo benedetto il nome di Gesù benedetto il suo sagratissimo cuore benedetto il suo sagratissimo cuore benedetto il suo preziosissimo sangue benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare benedetto lo Spirito Santo benedetto lo Spirito Santo benedetto la Gran Madre di Dio Maria Santissima benedetto la Gran Madre di Dio Maria Santissima benedetta la sua santa e immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetta Maria, Vergine e Madre, benedetta Maria, Vergine e Madre, benedetta San Giuseppe e suo rastrissimo sposo, benedetta San Giuseppe e suo rastrissimo sposo, benedetta Ennio, benedetta Ennio, benedetta Ennio, di sc crateri colori, benedetta Ennio, e visiva Anno, I riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno che ora volerà sempre, perché sappiamo che una nuova vita da per partire mai più si perderà. Resta qui con noi, il sole scende già, resta qui con noi, se non estero mai, resta qui con noi, il sole scende già, se tu stai con noi, la notte non verrà. Le ultime parole di questo canto esprimono il desiderio di tutti noi, immagino, vogliamo dire il Signore resta qui con noi. L'abbiamo portato per le vie della nostra città e abbiamo sentito il profumo del suo nome. Tanta gente è stata attirata dalla sua presenza, ognuno a suo modo ha espresso il bisogno di quella umore, il bisogno di quel pane, il bisogno di Gesù vivo. Anzi, non è vero che abbiamo portato Gesù per le vie di questa città. Lo hanno portato le mani dei nostri sacerdoti e mentre camminavo in processione pensavo quanto è importante la figura di un sacerdote. Il Signore passa attraverso l'umanità di queste persone per raggiungere i nostri altari, le nostre chiese, i nostri uori. Ora, credo che per le stesse vie, per le stesse strade, dovremmo portare il profumo del pane, non più quello ameristico. Quello che condivichiamo ogni giorno, sì, perché il pane non è fatto per essere mangiato, il pane è fatto per essere condiviso. E quando si condivide qualcosa con gli altri, non forreva il limitarsi a condividere il superfluo. Questo pane silenzioso, ma così forte, così vivo, ci ha insegnato questo stasera. Imparate a condividere ciò che avete e non solo il superfluo. Imparate a condividere ciò che avete partendo dai reali bisogni di chi ci sta accanto. Ma c'è un ultimo aspetto che, credo, da questo momento di fede, così vivo, così partecipato, dovremmo accogliere. Non occorre soltanto imparare a condividere ciò che abbiamo, ma se vogliamo non tradire ciò che ha fatto Gesù, dobbiamo imparare a condividere noi stessi. diventare noi pane profumato per gli altri. E c'è un segnale, per vedere se stiamo condividendo noi stessi, un segnale inepivocabile, chiarissimo, è la prova del nome. Ognuno tiri le somme e faccia le sue conseguenze. Insegnare che stiamo diventando noi pane per gli altri e vedere quanto siamo capaci di sacrificio. Quella è la dimensione ultima. Sacro, facile, rendere sacro il dono di noi stessi per gli altri. E allora, tornando a casa, con giovi e amicchi del Signore, chiediamo a Lui e alla Vergine Maria di saper diventare noi stessi dono per gli altri. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta della donna e benedetta del futuro del tuo sieno, Gesù. Santa Maria, Mio Mio di Dio, e rega per noi per noi, adesso è il cuore della nostra morte, amici. In nome del Signore, andate in pace. Veniamo, grazie a Dio. O me, dolcissimo, nome d'amore, Tu sei rifugio al peccatore. Tra i tuoi angelici, nell'armonia, Ave Maria, ave Maria. Tra i tuoi angelici, nell'armonia, Ave Maria, ave Maria.